ciao a tutti ragazzi eccoci anche oggi con un nuovo video e come vedete oggi siamo qua con questa barbie color reveal della se non sbaglio terza serie ho deciso di acquistare questa qui solamente perché l'ho trovata al prezzo di 9 euro invece di 20 euro 25 euro che ho visto costare negli altri negozi e quindi iniziamo subito a guardarla come già sapete la confezione è questo tubo semplicemente un tubo ricoperto da questa plastica con tutte le scritte i disegni eccetera qui sopra c'è il tappo arancione con il codice che vi mostro così se dovesse interessarvi perché da quello che ho capito in base a questo codice si può capire che abbiamo trovato all'interno io vi dico la verità l'ho presa assolutamente a caso quindi non so chi ci possa essere nella parte frontale di questa confezione di questo tubo troviamo ovviamente il logo barbie qui c'è una silhouette di barbie disegnata in blu la scritta color reveal qui ci fanno vedere che è quella metallizzata infatti io ho scelto proprio quella perché volevo proprio quella metallizzata qui c'è scritto che cambia colore con l'acqua qui in basso ci dicono che ci sono sette sorprese anche in questo caso le surprise hanno dettato legge perché ormai è tutto a sorpresa e qui sotto ci fanno vedere gli artwork di quelle che possiamo trovare io vi dico la verità che forse vorrei questa con i capelli biondi e arancioni almeno da come sembra qui sembra la più carina qui c'è scritto che è la serie estiva credo e suppongo estiva non lo so perché c'è un ombrello e un sole quindi boh e invece da questa parte ci dicono tutto quello che possiamo fare infatti ci dicono di bagnare la bambola poi troveremo una spugnetta con cui passare sul viso della bambola per scoprire le varie cose che si riveleranno poi troveremo un paio di scarpe a sorpresa una parrucca e una gonna una parrucca che cambia colore anche quella con l'acqua calda e fredda ma io direi quindi di andare subito a scartarla sarò fortunato si aprirà tutta vediamo wow questa è una soddisfazione enorme apriamo tutto togliamo la plastica e questo è come si presenta all'interno infatti vediamo che c'è la barbie insacchettata tutta completamente azzurra metallizzata e qui dietro i sacchettini apriamo tutto anche qui e tiriamo fuori quello che c'è all'interno non pensavo ragazzi ma c'è veramente un sacco di plastica perché c'è la barbie all'interno di questo sacchetto di plastica ci sono ovviamente i sacchettini con le sorprese che sono tutti di plastica ma su cui però c'è scritto che non vanno bagnati un altro sacchettino quelle che suppongo siano le istruzioni adesso le guarderemo e un altro pezzo di plastica anzi no di bigliettini ce ne sono due guardiamo il primo che è semplicemente la checklist con il logo di nuovo color reveal e poi ci sono tutte quelle che possiamo trovare le cinque barbie sono cinque vero sì le cinque più piccoline e i cinque pezzi che sicuramente non acquisterò mai ho acquistato questa solo per togliermi la soddisfazione di vedere come si toglie il colore e vedere se appunto è una cosa figa ma ragazzi non ne acquisterò assolutamente altre in quest'altro foglio invece ci sono le istruzioni e infatti ci dicono come prima di immergere la bambola all'interno del tubo pieno d'acqua con l'acqua calda non bollente ma calda muoverla un pochino per far sciogliere tutto il colore e rivelare la bambola puoi appunto aprire i sacchettini utilizzare l'acqua fredda sul viso e sui capelli per vedere il cambiamento quindi diciamo che le istruzioni sono piuttosto semplici dietro c'è il contenuto e quindi ok spacchettando la bambola dalla sua plastica devo dirvi che ha una consistenza molto strana intanto è bellissima vi giuro che la terrei così mi piace un sacco tutta metallizzata ecco forse potrei acquistarne un'altra solo per lasciarla così anche se penso che con il tempo diventerebbe un po' un disastro in effetti ecco potrei riacquistarla se la facessero dorata se la facessero dorata ne acquisterei tipo a centinaia comunque vediamo già una cosa prima di andare avanti che non è assolutamente articolata fa solo avanti e indietro con le braccia la testa solo destra e sinistra non ha i capelli rutati e le gambe non si allargano ma fanno solo avanti e indietro quindi è una delle barbie più cheap che mattel potesse produrre che però viene venduta come se fosse d'oro semplicemente perché è ricoperta di questa patina ma 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 andiamo subito a riempire il tubo e vediamo cosa succede ho riempito tutto il tubo con acqua calda fino al livello che è indicato appunto da loro perché spero si riesca a vedere che qui c'è una linea proprio sul tubo nella plastica con una gocciolina che ci indica fino dove dobbiamo mettere l'acqua calda adesso però direi di andare subito ad immergere la barbie e vediamo cosa succede scusate se traballo un po ma sto cercando di tenerla in equilibrio ottio comincia a scendere dai piedi guardate no vabbè questa cosa è fichissima ma io la immergo un pochino di più no vabbè ragazzi ma questa cosa è una figata vediamo se da dietro si vede meglio guardate si sta praticamente cristallizzando e piano piano si scioglie e inizia a scendere da solo beh vabbè l'hanno detto gli altri nei video che è una cosa ipnotica ma non pensavo fosse realmente così ipnotica rimarrei qua delle ore a guardarlo oddio adesso inizia a perdere i pezzi non ho capito come mai proviamo a muoverla un pochino alla mia si staccano i pezzi però ragazzi cioè è una figata ma alla mia si staccano i pezzi direttamente andiamo ad immergerla tutta così vediamo se cambia qualcosa se comincia a sciogliersi nel modo migliore la testa bisogna tenerla giù perché ovviamente galleggia però sì guardate che roba che figata come scende il colore no vabbè vi giuro resterei qua delle ore questa è una cosa veramente super super figa guardate che roba ok sto perdendo un sacco di tempo quindi direi di muoverla un pochino così andiamo a svelarla tutta vi giuro c'è l'acqua che è tipo bollente ma la mia ci sta mettendo un'ora a perdere tutto il colore quindi non capisco che problemi ci siano però è comunque fighissimo da vedere anche se credo sia un mezzo epic fail visto che ci sono tutti i pezzettini e non è bello come nel video degli altri allora io direi di tirarla fuori perché è passato un sacco di tempo e l'acqua scotta ma vi giuro che scotta perché l'ho messa abbastanza calda e vado a finire di lavarla in bagno perché come vedete non è venuto via tutto il colore quindi vado in bagno con una spugna a pulirla non ho capito perché agli altri funziona e a me no però insomma ci rivediamo tra un secondo eccoci qua con la bambola pulita più o meno prima di tutto voglio dirvi una cosa mentre ero in bagno che cercavo di pulirla nel migliore dei modi ho scoperto che alcuni youtuber che le hanno recensite hanno trovato quelle un po tra virgolette difettate come la mia nel senso che si fa fatica a toglierle il colore infatti guardate anche grattando con la spugna da qui non è venuto via dal viso è rimasto un pochino non so se in camera si vede ma qui ci sono un sacco di brillantini azzurri appiccicati anche all'interno delle mani ma comunque stavo dicendo che ho scoperto che altri fanno un taglio durante la registrazione la puliscono la reinseriscono all'interno del tubo per far vedere che diventa perfetta molti altri per fortuna ho visto che sono sinceri e onesti e molti altri invece non hanno avuto problemi quindi diciamo che alcune di queste bambole purtroppo presentano tra virgolette questo difetto vanno lavate veramente benissimo in ogni caso quella che ho trovato io come vedete ai capelli ovviamente di plastica completamente rosa rosa quasi lilla sopracciglia molto definite gli occhi molto allungati quasi un pochino asiatici un po di blush sulle guance e un rossetto rosa molto chiaro la testa in queste barbie è dura non è fatta di vinile infatti non possiamo schiacciarle proprio plastica rigida che non ho mai visto sulle barbie infatti non può muovere tanto la testa solo a destra e sinistra per il resto indossa solamente questo costume che ovviamente è stampato sul suo corpo completamente azzurro con questo ombrello delle gocce di pioggia sopra questo sembra fatto effettivamente per me che amo la pioggia ma non ha ovviamente nient'altro per il resto è solamente nuda anche il suo corpo se vedete lucidissimo perché fatto di plastica molto rigida è una plastica completamente diversa dalla classica plastica di barbie ma adesso andiamo a vedere cosa troviamo nei sacchettini nel primo sacchettino che ha l'apertura facilitata per fortuna troviamo credo le scarpe sì esatto che sono queste qui molto semplici completamente bianche perlate con un bel tacco alto e il laccetto qui sulla caviglia in questo sacchettino più grande invece troviamo vediamo la gonna che è ovviamente semplicissima però devo dirvi che il tessuto è carino non è male la stampa con queste nuvole tutte queste gocce di pioggia colorate mi piace devo dirvi la verità è ovviamente semplicissima ha semplicemente l'elastico qui in vita e nient'altro in quest'altro sacchettino vediamo cosa c'è dovrebbe esserci la spugnetta infatti c'è la spugnetta ovviamente nel suo caso a forma di nuvola molto carina e nell'ultimo sacchetto ci sarà sicuramente la parrucca esatto eccola qua che si confermano le mie teorie ai capelli veramente molto molto rigidi infatti guardate se la mettiamo al contrario i capelli sfidano la forza di gravità sarebbero anche belli perché il colore mi piace qui sopra è stata rutata molto bene qui davanti molto male ma direi di provare a fargliela indossare intanto quindi prima di tutto mettiamo la parrucca che dovrebbe incastrarsi e non si incastra e si è incastrata ma ecco direi che proprio bene non le sta questa parrucca sta meglio senza perché se guardate è stata inserita proprio nel verso giusto più di così non entra ma guardate qui che cosa brutta ragazzi tutta sta roba che sembra un cerchietto orrendo in più si vedono ancora i capelli sotto vediamo se io provassi a fare una cosa del genere no viene una schifezza lo stesso sono fatte proprio male queste parrucche però mettiamole la sua gonna e mettiamole anche le sue scarpe che indossate risultano così non sono male ma non sono neanche questo granché e qui e qui potete vedere ancora un alone di azzurro qui sul piede vabbè ora però direi di andare a prendere la spugnetta bagniamola con l'acqua fredda l'ho già preparata qui e passiamola sul viso vediamo cosa succede non succede assolutamente niente neanche qua andiamo bene dopo mille prove questo è il risultato come vedete sono comparse delle stelline qui sul suo zigomo ma ragazzi il rossetto è un disastro perché purtroppo andando a lavarla guardate se ne facciamo così con l'unghia la patina che cambia colore con il caldo e il freddo viene completamente via bisogna stare veramente attentissimi guardate ci sono i pezzettini in giro dappertutto perché queste bambole non sono fatte bene i capelli invece la ciocca questa qui se vedete leggermente bicolor perché con il caldo quella viola diventa rosa e invece con il freddo diventa viola infatti qua potete vedere com'è da fredda e qui invece si vede com'è da calda c'è proprio una differenza almeno i capelli cambiano colore però ragazzi questa cosa del rossetto non mi piace per niente quindi ragazzi questa era la mia prima e adesso confermo assolutamente ultima barbie color reveal perché è stata un po' un disastro oltretutto vi faccio vedere una cosa questa qui dovrebbe essere lei ma sinceramente se noi le mettiamo a confronto ragazzi c'è veramente un abisso quindi che dire come avete visto sono partito sia nello scorso video che vi lascio qui sopra sia all'inizio di questa recensione con le migliori intenzioni avevo stravoglia di vedere come funzionavano queste bambole pensavo di non riacquistarle perché appunto sapevo che erano bambole da gioco e quindi delle bambole chip e non da collezione ma non pensavo sinceramente che fosse così un disastro da pulire è molto difficile se trovate quella un po' sfigata come la mia la parrucca è orrenda i capelli sono orrendi la gonna è carina però come vedete messa lì così sembra che lei sia in costume con una gonnellina a caso il corpo è assolutamente non articolato potevano almeno mettere un'articolazione migliore sulle spalle il trucco viene via praticamente io ho solamente passato una spugna e dalla parte non abrasiva sul viso e il rossetto come avete visto è venuto via ma l'avete comunque notato anche adesso che ho provato a farvi vedere toccandolo con un'unghia si stacca la parte che cambia colore quindi ragazzi io sinceramente non so se consigliarvele perché perché se trovate quella giusta quella messa bene quella che non ha particolari difetti ho visto che è molto divertente andare a provarle andare a scioglierle il colore ma se trovate quella come la mia avete visto è un po' un disastro quindi ragazzi io ve le consiglio solamente se le trovate in super offerta vi lascio comunque lo stesso qui sotto il link amazon con cui ho l'affiliazione se volete guardare il prezzo non vi sto consigliando di acquistarla io ve lo lascio comunque sempre qui perché così potete fare quello che volete magari controllate il prezzo non lo so vedete perché comunque il prezzo di queste bambole varia veramente parecchio ultimamente su amazon quindi se volete anche solo controllare io qui sotto comunque il link ve lo lascio ma ecco non lo so forse le sirene sono fatte un pochino meglio di queste qui ma queste ragazzi sono veramente bruttine mi dispiace perché volevo appunto fare una recensione un pochino più bella un pochino più allegra volevo divertirmi un pochino di più con il discorso dello scioglierle il colore del corpo ma questo è il risultato sicuramente la terrò senza parrucca sicuramente andrò a rimuovere a questo punto completamente il rossetto e poi penserò a cosa farne io ragazzi l'unica cosa che spero è che questo video vi sia stato utile fatemelo sapere qui sotto con un commento e lasciando un like ovviamente mi trovate anche su instagram io intanto ragazzi vi saluto vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video ciao